Un'audizione importante si è tenuta nell'ambito dell'ultimo consiglio provinciale, il tema è quello che sta insistendo maggiormente nel nostro territorio, cioè stiamo parlando dell'area est della città di Biella, sviluppo, prospettive, sono insomma diversi gli attori che hanno proposto questo tavolo, questo confronto anche con gli enti, quindi insomma professionisti, associazioni ed istituzioni. Buongiorno. Buongiorno, sì è vero, noi abbiamo da tempo costituito un tavolo, l'abbiamo chiamato Nuovo Urbanesimo, è formato dall'associazione datoriali, dall'associazione dei professionisti e dall'associazione dei commercianti e ci stiamo preoccupando in modo assolutamente apolitico di fare in modo che le nuove iniziative, insomma si veda il territorio in un complesso generale. Ecco, lei ha sottolineato due punti importanti, intanto partendo dalla Trossi, via Carso è la naturale prosecuzione, è importante però vedere una prospettiva, un progetto unico. Infatti noi puntiamo proprio su quello, noi avremmo piacere ci fosse un progetto unico che parte dalla stazione fino all'ospedale, che sia omogeneo, che poi venga realizzato in diversi step va bene, ma uno step deve guardare l'altro perché altrimenti rischiamo di fare due cose che poi addirittura possono anche contrastare. Quindi siamo alla ricerca, alla richiesta di un buon progetto, di una buona idea, sfruttando, anche se non è la parola giusta, l'apporto dei privati che per fortuna ci sono e vogliono investire nella nostra zona, sul nostro territorio, cercando la loro collaborazione per portare a casa un risultato unico che poi quando sarà finito da sud fino a nord sia omogeneo e porti dei buoni risultati. Allora, senta, in questo momento sappiamo che non ci sono ancora dei progetti effettivi, non ci sono delle idee concrete, ci sono state una serie di annunci che però poi puntualmente vengono disattesi. Avete qualche timore in questo momento? Allora, il timore, parlo io a nome, il timore principale è proprio quello di cui diceva il geometra Panuccio, è quello che pur sapendo che quei grandi interventi, quelle riqualificazioni interessano il territorio della città di Biella e quindi gli amministratori se ne devono occupare, essendo di portata così grande, debbono essere visti. Quindi bisogna fare uno sforzo anche da parte degli amministratori, e non è facile, debba essere fatto uno sforzo perché venga comunque compreso che è di interesse di tutto il territorio, di una provincia comunque piccola e quindi siccome l'area è vastissima, è grande e si può fare potenzialmente tanto, quello che si potrà fare anche in step, come diceva il geometra dell'area Panuccio, deve essere fatto anche in funzione del territorio, della provincia. Su questo noi siamo preoccupati, ma allo stesso tempo consci delle grandi potenzialità e quindi con coraggio, diciamo oggi l'abbiamo detto alla provincia, aspettiamo di essere poi chiamati anche dal Consiglio Comunale di Biella per intanto manifestare il nostro sostegno, la nostra disponibilità, a dare una mano, a avagliare tutti quei progetti che comunque ci sono, non è che non ci sono, sono tanti e insieme cercare di aggregare il più possibile per il bene della città e di tutto il territorio. Grazie.